Buongiorno, un altro video sulle tassellature di Penrose. Adesso osserviamo una particolare tipologia di tassellature di Penrose, denominate ruote di carro, che secondo Gardner sono le più straordinarie di tutti gli universi di Penrose e che hanno alla pari gli altri universi di Penrose una serie di caratteristiche, come ad esempio il fatto che sono ricoprimenti del piano infiniti realizzati attraverso l'uso di solo due tasselli base, l'aquilone, la freccia, tasselli base che sono presenti nell'infinita tassellatura in rapporto 1 a Fi, dove Fi, ricordiamocelo, è la sezione aurea. Non solo, la ruota di carro presenta sostanza aurea anche in un altro modo, sono infatti riconoscibili ben 10 triangoli aurei. Che cos'è il triangolo aureo? Ricordiamocelo, è quel triangolo in cui, triangoli soscele, in cui il rapporto tra i lati è naturalmente pari a 1 su Fi e non solo, e quel triangolo tale che, se andiamo a tracciare la bisettrice dell'angolo di base, otteniamo un nuovo triangolo aureo, per il quale possiamo naturalmente tracciare la bisettrice dell'angolo di base, ottenendo un nuovo triangolo aureo, naturalmente così all'infinito, e poi andando a unire i punti così ottenuti. Tracciamo cosa? Ebbene, la spira mirabilis, la spirale aurea. Insomma, ruota di carro fatta di tanta sostanza aurea. I dieci triangoli aurei darebbero l'idea che tale ruota di carro goda della proprietà di simmetria rotazionale di ordine dieci. Se non fosse per l'elemento al centro, lo notate, lo vedete, non ha simmetria di ordine dieci, che nel caso specifico assomiglia ad un pipistrello, quindi denominato Batman, e se non fosse anche per i raggi, questi dieci raggi o vermi, e se immaginate di effettuare una rotazione della figura, vi accorgerete che non si sovrappongono l'uno all'altro. Dunque, a causa di questi due elementi di dissimmetria, non abbiamo una simmetria decagonale di ordine dieci, viceversa, naturalmente abbiamo quel tipo di simmetria di cui godono tutte le tassellature di però, se ricordiamoci che è per questo che sono nate le tassellature, per realizzare un ricoprimento, una tassellatura che goda della proprietà di simmetria di ordine cinque, e poi abbiamo detto in un altro incontro, il pentagono è la figura aurea per eccellenza. Va bene, ma esaminiamo un po' più a fondo questi elementi che rompono, diciamo così, invece versa la simmetria apparente di ordine dieci, che tali tassellature sembrerebbero manifestare. Entriamo più nel merito delle caratteristiche dei raggi della ruota di carro, e in particolare ci accorgiamo che questi raggi sono costruiti a partire da elementi base, naturalmente che a loro volta sono costituiti da tasselli base, l'aquilone e la freccia, e andiamo ad esaminarli. Infatti questo elemento base presenta quello che viene denominato asso, è costituito da una freccia e da due aquiloni, poi c'è una freccia, una freccia, e poi c'è un altro asso. Ebbene questo elemento base assomiglia ad un papillon, ad un farfallino, va bene? E' seguito questo elemento da un elemento più piccolino, che ha un asso, un aquilone e una freccia. Anche questo sembra un farfallino più corto. Insomma abbiamo un'alternanza di papillon corti e lunghi. E andiamola a valutare, non è un'alternanza in senso stretto, è una sequenza che adesso andiamo ad esaminare. Per vedere di che sequenza si tratta, associamo 1 al farfallino lungo, 0 al farfallino corto. E allora abbiamo prima un farfallino lungo, poi ne abbiamo uno corto, poi ne abbiamo uno lungo, poi vediamo che cosa succede, ne abbiamo un altro lungo, uno corto, eccetera, eccetera. Chi ha seguito altri incontri avrà probabilmente riconosciuto la stringa di Fibonacci. Stringa di Fibonacci chiamata dalla John Conway sequenza musicale, cioè della musica nelle tassellature di Peros. Entriamo nel merito delle caratteristiche della sequenza musicale. Intanto si chiama Stringa di Fibonacci, quindi per chi non la conoscesse, bene, probabilmente riuscirebbe però a ricordare che è la più nota serie di Fibonacci, con cui naturalmente c'è un profondo legame che adesso andiamo ad esaminare. La serie di Fibonacci, che ricordiamo ce lo nasce, per risolvere un problemino ludico, ci si chiede quante coppie di conigli si ottengono in un anno, se da ogni coppia nasce una coppia al mese, e se le coppie sono in grado di riprodursi solo dal secondo mese di vita. Insomma, stiamo dicendo che, dato un coniglio non fertile, il mese successivo diventa fertile, data una coppia fertile, il mese successivo la coppia rimane in vita, non si considera la morte in questo tipo di problema, semplifichiamoci le condizioni vincoli del problema, non solo rimane in vita ma avrà anche una coppia di figli. Allora costruiamo la serie di Fibonacci, supponiamo che in partenza abbiamo una coppia di conigli, entrambi non fertili, quindi il mese successivo, secondo le ipotesi del problema, saranno entrambi fertili, vuol dire che il mese successivo saranno entrambi in vita e in più ci saranno i due figli non fertili, naturalmente. Di nuovo, il mese successivo cosa accade? Che avremo? Che la coppia fertile lo è ancora, la coppia non fertile diventa fertile, la coppia fertile naturalmente ha partorito una coppia di figli. E insomma, questo tipo di algoritmo lo possiamo facilmente iterare e ottenere che cosa? ottenere la serie di Fibonacci che nasce dal computo che ogni mese, dal computo del numero di coppie che abbiamo ogni mese. Serie di Fibonacci che si può iterare, si può determinare all'infinito, semplicemente costruendola in questo modo, cioè determinando ogni valore attraverso la somma dei due valori precedenti. Lo vedete? 5 uguale 3 più 2, 8 uguale 5 più 3 e così via la serie di Fibonacci. Serie di Fibonacci che ha un profondo legame con la sezione aurea. Infatti, se andiamo a determinare il rapporto tra un valore della serie e il valore precedente e andiamo a determinare questo rapporto via via, che ci allontaniamo, ci accorgiamo che all'infinito il valore di questo rapporto tende ad assumere, ad essere proprio uguale al valore della sezione aurea, cioè la sezione aurea è il limite per n che tende a infinito tra valori consecutivi della serie di Fibonacci. Ma che legame c'è con la stringa di Fibonacci? Ricordiamoci che siamo partiti da una stringa di bit 0 e 1, quella dei papillon della ruota di carro. E allora per vedere che relazione c'è tra la serie di Fibonacci e la stringa di Fibonacci facciamo questa operazione. Chiamiamo 0 il coniglio non fertile, chiamiamo 1 il coniglio fertile e allora la procedura che abbiamo prima espresso consiste nel dire che il mese successivo lo 0 diventa 1, no? Il non fertile diventa fertile e che il fertile dà luogo ad una coppia 1, 0, cioè fertile e non fertile. Va bene? E allora supponiamo di partire dall'1. L'1, abbiamo detto, genere la coppia 1, 0. Poi che cosa succede? Che l'1 genera la coppia 1, 0, mentre lo 0 genera un 1. Di nuovo questo tipo di procedura la possiamo iterare quante volte? Ebbene, naturalmente infinite volte. E otteniamo cosa? E otteniamo proprio quella che prima abbiamo chiamato stringa di Fibonacci. Ecco dunque il legame profondo tra stringa di Fibonacci e serie di Fibonacci. Sono di fatto la stessa cosa, la stessa cosa. Eccola la stringa di Fibonacci che abbiamo prima riconosciuto essere presente, cioè la maniera con cui si susseguono i farfallini, i papillon corti e lunghi nel raggio della ruota di carro riproduce questo tipo di sequenza. Va bene, andiamo a esaminare qualche altra caratteristica delle sequenze facendo cosa? Facendo sostanzialmente l'operazione inversa rispetto a quella che abbiamo fatto prima per la ruota di carro. Cioè nel caso della ruota di carro siamo partiti da un'immagine e da essa abbiamo ottenuto una sequenza di bit. Adesso supponiamo di partire dai bit e esprimere questo tipo di procedura di algoritmo che abbiamo prima identificato in maniera grafica, facendo cosa? Bene, associamo allo zero una barretta blu, all'uno una barretta rossa e quindi il tipo di algoritmo che abbiamo prima descritto consiste nel dire che lo zero genera, cioè scusate la barretta blu genera una barretta rossa, la barretta rossa genera una coppia di barrette rosse e blu. E allora andiamo ad applicarlo. Se partiamo dall'uno rosso abbiamo un rosso blu, poi l'uno mi genera il rosso blu, lo zero abbiamo detto mi genera un uno, quindi la barretta blu mi genera una barretta rossa e così via questo tipo di procedura, l'avete imparato, lo possiamo naturalmente iterare all'infinito. Che cosa osserviamo nel applicare in questo modo che abbiamo appena descritto la procedura che porta alla costruzione della stringa di Fibonacci? Ebbene ci accorgiamo che procedendo così c'è un risultato che per certi versi è sgradevole, cioè abbiamo che le barrette che stanno a rappresentare uno stesso bit, per esempio quelle rosse che stanno a identificare il bit 1, in corrispondenza di una stessa iterazione si manifestano con lunghezza differente, idem per quanto corcerne le barrette che rappresentano l'altro bit, quelle azzurre, hanno lunghezza differente. Questa cosa potrebbe non piacerci, cioè proviamo a chiederci, invece di dividere la barretta associata all'uno in due metà uguali, in che rapporto dobbiamo dividere queste due metà affinché in una generica iterazione le diverse barrette corrispondenti ad uno stesso bit hanno la stessa lunghezza, più naturale aspettarsi qualcosa del genere. E allora io vi dico che se proviamo ad associare alla barretta rossa una coppia di barrette, tali che il rapporto sia diverso dal rapporto prima identificato, secondo cui sono una metà, ma se proviamo a realizzare la barretta rossa un pochino più lunga di quella azzurra, ebbene sì, possiamo riuscire a fare in modo che ad ogni iterazione la lunghezza delle barrette corrispondenti ad uno stesso bit sia la stessa. Quale deve essere il rapporto tra le due barrette rossa e blu? L'avevi dettuito? Ebbene, naturalmente, naturalmente deve essere il rapporto che regola le proporzioni di cosa del rettangolo aureo. Rettangolo aureo, eh, ve lo ricordate? Quello che è detta ai canoni della bellezza, dell'estetica. Il rettangolo aureo è caratterizzato dal fatto che il rapporto tra la somma dei suoi lati e il lato maggiore coincide con il rapporto tra il lato maggiore e il lato minore, espresso matematicamente in questa maniera, e naturalmente questi due rapporti coincidono tra di loro, e a che cosa sono pari? Ebbene, sono pari alla sezione aurea, E' questa proprio la definizione di sezione aurea. E infatti, guardate bene, supponiamo di avere inizialmente la barretta rossa che sia lunga, 1, E allora, se questa costituisce il tutto, il tutto, per la definizione di sezione aurea avremo che la barretta più lunga è pari al tutto diviso φ. Ma è anche vero, sulla base della definizione che abbiamo prima dato, che la sezione aurea è anche il rapporto tra barretta lunga e barretta corta, quindi la barretta corta risulterà pari alla barretta lunga diviso φ, 1 su φ quadro. Va bene. Vediamo nell'iterazione successiva che cosa accade. E naturalmente accade che quando andiamo a ripartire la barretta lunga, la barretta iniziale, scusate, in una barretta lunga e in una barretta corta, la barretta lunga è la barretta iniziale diviso φ, quindi 1 su φ quadro, l'altra sarà pari alla barretta lunga fratto φ, quindi sarà pari a 1 su φ al cubo, mentre ricordiamoci che la barretta azzurra dell'iterazione precedente rimane della stessa lunghezza e quindi ancora una volta pari a 1 su φ quadro. Guardate bene che cosa succede. Che le barrette rosse, in una stessa iterazione, hanno la stessa lunghezza. Nell'iterazione successiva torno ad applicare l'algoritmo per come l'ho adesso raccontato e mi accorgo che non solo le barrette rosse hanno tutte la stessa lunghezza, ma anche le barrette azzurre hanno la stessa lunghezza. Ho ottenuto una rappresentazione grafica più gradevole, più armonica dell'algoritmo di Fibonacci. Va bene, però possiamo fare anche un passetto successivo, nel senso che quello che abbiamo fatto finora è suddividere il segmento iniziale in segmenti più piccoli, tali che la somma coincida con il segmento iniziale. Ricordiamoci però che siamo partiti da qualcosa di infinito, il raggio della ruota di carro, di Penros, che è di fatto una sigiretta, insomma sì, di parte da un punto e poi procede all'infinito. Allora supponiamo di applicare questo tipo di algoritmo in che modo? in maniera tale che invece di suddividere il segmento iniziale in parti mantengo per il segmento iniziale la stessa lunghezza e quindi amplifico di quanto? Di Fi le parti, cioè invece di partire da un segmento lungo 1 e ripartirlo in due segmenti rispettivamente lunghi 1 su Fi e 1 su Fi quadro, stiamo supponendo di amplificare di Fi la lunghezza dei segmenti ottenuti nell'iterazione successiva in maniera tale che di fatto riottengo un segmento uguale al precedente e in più naturalmente sulla base dell'algoritmo che abbiamo prima disegnato identifico un altro segmento che sarà lunghezza pari ad 1 su Fi rispetto al precedente. Naturalmente questo tipo di algoritmo lo itero all'infinito ed è questo il modo con cui ottengo una sequenza infinita di segmenti. Ebbene, questa lunghezza infinita di segmenti osservate bene fatta di segmenti le cui lunghezze naturalmente sono in rapporto l'una rispetto all'altra di Fi e questo l'abbiamo dimostrato all'inizio e in più riproducono di fatto la serie la stringa scusate di Fibonacci insomma che cosa abbiamo ottenuto con questa procedura abbiamo ottenuto proprio il raggio della ruota di carro e abbiamo evidenziato il profondo legame con la serie di Fibonacci e la presenza pesante in essa della sezione aurea insomma le lunghezze dei papillon lunghi e corti sono il rapporto 1 a Fi quanta musica c'è in quello che abbiamo detto quanta armonia no? se ci ricordiamo che la sezione aurea è il canone dell'armonia e concludiamo concludiamo perché perché sarà poi molto interessante vedere come tutta questa armonia che è un apparente gioco puramente grafico nonché matematico ha a che vedere con qualcosa che esiste in natura e che riproduce proprio le tassellature di Perros che verrà scoperto dopo che le tassellature di Perros sono state create sono i quasi cristalli ma ne parleremo oltre concludiamo osservando come le tassellature di Perros hanno istituito un vero e proprio ponte tra la sezione aurea la matematica che noi inventiamo e la matematica nel mondo attorno a noi ricordiamoci quanto la sezione aurea è presente nel mondo attorno a noi grazie e arrivederci aurea